No persuasione ma informazione. È l'obiettivo dell'iniziativa pilota presentata dalla ASRI Teramo volta a incentivare la campagna di vaccinazione dei bambini dai 5 agli 11 anni. Un accesso alle informazioni tramite il confronto diretto tra i genitori e un pool di pediatri. Le scuole provinciali saranno parte integrante del progetto che vuole informare in maniera chiara l'importanza della vaccinazione. Il primo istituto dove sarà avviata nel pomeriggio di domani l'iniziativa è quello comprensivo Civitella-Torricella. Abbiamo messo in campo certamente, è ovvio che in questo momento anche di difficoltà i genitori sono disorientati, dobbiamo dare loro delle certezze, almeno dal punto di vista sanitario. Non è che possiamo obbligarli, però almeno far capire che ci sono dei motivi validi per vaccinare i propri figli, per vaccinare questi ragazzi, soprattutto perché ne salvaguardiamo la propria salute. Questo è importante, ieri lo ha sostenuto fortemente il professor Villani del Bambin Gesù, il primario di tutta la pediatria del Bambin Gesù, lo stanno sostenendo i nostri prediari, il dottor Sisto, il nostro primario di pediatria, è fermamente convinto di questo. E appunto siamo messi a disposizione, abbiamo voluto coinvolgere proprio il mondo scolastico, andare nelle scuole dove appunto ci sono i bambini da 5-11 anni, in maniera tale di avere un contatto con i social, con i genitori, al fine di distogliere dei eventuali dubbi che loro hanno. Ovvio, non è che possiamo entrare nella mente delle persone, però almeno far capire che la vaccinazione oggi è un elemento fondamentale per la salvaguardia e la salute di tutti. La nostra campagna non è solo per gli indecisi, la nostra è una campagna informativa su tutti, anche su coloro che pur avendo deciso di vaccinare il figlio hanno dei quesiti, dei dubbi. Tutto nasce dall'idea che avere un contatto diretto con il dubbioso, diciamo così, è uno strumento privilegiato poi per poter instaurare un dialogo costruttivo. Partiamo interessando i genitori dei bambini nella fascia di età fra 5-11 anni, che sono i soggetti interessati alla campagna vaccinale che è partita nei giorni scorsi. L'ASIL da questo punto di vista ha messo in campo tutte le sue potenzialità tecnologiche e informatiche. Questo ci consentirà di poter essere raggiunti, anche questo è un elemento di novità, cioè noi raggiungiamo quell'informazione ma nel contempo siamo raggiunti anche dall'utenza che potrà tramite collegamento telematico interagire direttamente con noi in diretta.